Musica Ben trovati in questa edizione dedicata a News Dunque, la Giunta regionale ha approvato ieri pomeriggio la dichiarazione dello stato di crisi del comparto agricolo. Sentiamo i particolari in questo servizio. La Giunta regionale ha approvato la dichiarazione dello stato di crisi del comparto agricolo siciliano con particolare riferimento al settore degli agrumi e dei pomodori. La delibera proposta dall'assessore all'agricoltura Antonello Cracolici è stata approvata ieri pomeriggio dall'esecutivo regionale riunito a Palazzo d'Orlean. Questo provvedimento ha conventato l'assessore Cracolici potrà supportare l'azione del governo italiano impegnato nella richiesta all'Unione Europea di applicazione delle clausole di salvaguardia nei confronti dei prodotti che entrano nei nostri mercati alterando il valore della produzione. Inoltre potranno essere attivate misure straordinarie per la promozione dei prodotti in difficoltà e il ritiro merce per beneficenza. Era stato lo stesso assessore all'agricoltura Cracolici a lanciare nei giorni scorsi l'allarme sullo stato di salute dell'agricoltura siciliana annunciando di dichiarare con suo provvenimento in giunta lo stato di crisi per agrumi e pomodorini al fine di attendere delle misure da parte dell'Unione Europea. Nel mese di febbraio i prezzi al mercato dei nostri prodotti sono stati costantemente al di sotto di oltre il 30% del valore medio di mercato dell'ultimo triennio. La stessa cosa era accaduta a dicembre, a gennaio. Siamo consapevoli, sono le parole dell'assessore Cracolici, che è lo stato di crisi di una sola regione seppur importante come la Sicilia. Siamo infatti i principali produttori nel settore primario agricolo nazionale. Non potrà produrre effetti sostanziali sul valore dei nostri prodotti nei mercati. Tuttavia questa iniziativa, che sarà assunta dall'Aggiunta regionale, potrà supportare l'azione del ministro Martina, che sarà a Bruxelles, alla riunione del Consiglio d'Europa, nella quale sarà chiesto di applicare la clausola di salvaguardia nei confronti dei prodotti che entrano nei nostri mercati. Rinegoziare il regime di minimis per i produttori del settore primario e della trasformazione, aumentare i prezzi del ritiro, ristrutturare i debiti, sono alcune delle misure, conclude Cracolici, che l'Europa dovrà autorizzare per fare uscire la nostra agricoltura dal grave momento che sta vivendo. La cronaca è di due feriti lievi. Il bilancio di un incidente stradale è avvenuto questa mattina intorno alle 6.15 sulla strada statale, 115, dopo Falconara. A scontrarsi due auto articolati che trasportavano ortaggi. I due conducenti degli auto articolati per le ferite riportate sono stati trasportati, uno all'ospedale San Giacomo d'Alto Passo di Ricata, l'altro all'ospedale Vittorio Emanuele Di Gela. Traffico bloccato per l'intera mattinata, la strada è stata chiusa al traffico fino alle 8.00. Sul posto per i rilievi sono intervenuti la polizia stradale e i vigili del fuoco di Gela. Il Consiglio di giustizia amministrativa conferma la sentenza del Tar che non aveva accolto la richiesta del Comitato per la tutela della Casa di sospendere l'affidamento dell'intervento di demolizione. Di fatto si avvicina il momento in cui a Licata entreranno in azione le ruspe. La Sanità ha chiesto la convocazione della Commissione Sanità Licata per capire a che punto è lo stato dell'arte del punto nascita di Licata. La convocazione urgente della Quinta Commissione Sanità. A chiederlo sono oggi i consiglieri comunali Giuseppe Russotto, Giada Bennice e Laura Termini. Le motivazioni, spiegano i consiglieri, sono diverse. La prima è capire quale sia lo stato d'arte ad oggi del punto nascita di Licata. Si è avuto un provvedimento ministeriale di deroga rispetto all'imminente chiusura del punto nascita, a seguito del quale si è avuto un provvedimento di sospensione con conseguente chiusura temporanea del punto nascita, al fine di adeguarsi agli standard previsti dalla normativa. Sono quasi decorsi i 90 giorni previsti per l'adeguamento delle strutture e la pianta organica. Vorremmo capire, scrivono i consiglieri comunali, a che punto oggi è la vicenda. Che il dirigente preposto, il Dipartimento Sanitario e il Sindaco ci spiegassero in Commissione Sanità a che punto siamo. La convocazione della Commissione Sanità, come ha spiegato il consigliere Russotto, è finalizzata anche ad avere informazioni più chiare in merito ad un probabile depotenziamento, se non addirittura chiusura imminente del reparto di chirurgia, così anche sul reparto di pediatria. La speranza dei consiglieri comunali è che, parlandone e discutendo in Commissione, si riesca anche a promuovere un tavolo tecnico alla Regione, con l'assessore regionale alla Sanità, Gucciardi, e il presidente della Commissione Sanità, per capire qual è la direzione della politica regionale sul tema sanità, per quanto riguarda le ripercussioni e le ricadute che può avere sulla nostra città e sul nostro territorio, e se si sta facendo veramente l'interesse dedicato ai suoi cittadini. È intenzione dei consiglieri comunali redigere un documento da portare in consiglio e condividere con l'amministrazione, al fine di mettere in campo tutte le azioni necessarie al mantenimento di tutti i reparti dell'ospedale, al potenziamento dello stesso. Restiamo in tema di sanità. Le liste d'attesa e pronto soccorso delle strutture ospedaliere siciliane sono stati al vaglio nei giorni scorsi della Commissione Sanità Lars, preseduta da Pippo Di Giacomo. Sono stati chiamati a rapporto tutti i manager di Aspe, aziende ospedaliere e sanitarie di tutta la Sicilia. Le liste d'attesa e pronto soccorso restano due nodi caldi della sanità siciliana. Si sono fatti passi avanti, specie in alcune realtà, ma non basta. La strada da fare resta ancora molta, lo dice Pippo Di Giacomo, presidente della Commissione Sanità Lars, a proposito della riunione della Commissione, alla quale hanno partecipato i manager di Aspe e aziende ospedaliere. Il quadro complessivo che viene fuori si presenta in miglioramento, specie nelle realtà provinciali, mentre resta problematico nelle città metropolitane. Al termine dell'audizione della Commissione, i manager delle aziende sono stati invitati a presentare un report sui dati relativi, a liste d'attesa e pronto soccorso. Il sindaco di Licata, Angelo Cambiano, ha sollecitato l'ANAS per intervenire per il ripristino delle strade statali a garanzia della sicurezza lungo le strade ricadenti all'interno del territorio comunale di Licata. I particolari in questo servizio. La sicurezza nelle strade statali ricadenti all'interno del territorio del comune di Licata è quanto mai urgente e necessario, ed è per questo che il sindaco Angelo Cambiano nei giorni scorsi ha incontrato il responsabile dell'ufficio ANAS di Agrigento, l'ingegner Rita Giglione. Il primo cittadino ha segnalato perciò alcune lacune presenti nelle strade statali ricadenti all'interno del territorio del comune di Licata e ha chiesto altresì i conseguenziali interventi di ripristino. In particolare, all'ANAS sono stati chiesti il ripristino del manto stradale e l'eliminazione di alcuni avvallamenti nel tratto di strada che da Palma di Montechiaro conduce a Licata nei pressi dello svincolo di Contrada-Ciotta prima di giungere al birrio di Torre di Gaffe, la sistemazione di alcuni guardrail, la pulizia degli svincoli di competenza dell'ANAS. Chieste altresì l'eliminazione di erbacce lungo le strade e soprattutto in prossimità degli svincoli, con particolare riguardo, per quei cespugli che ostruiscono la visibilità dei segnali stradali. Il primo cittadino ha chiesto inoltre la sistemazione della segnaletica, sia verticale che orizzontale, e la collocazione di nuovi segnali, anche per una maggiore valorizzazione del ricco patrimonio paesaggistico, culturale, archeologico e monumentale della città. Il tutto, ha dichiarato il sindaco, è stato fatto ai fini non soltanto del decoro delle strade, di conduzione da e per Licata, ma soprattutto ai fini della sicurezza di quanti, e sono molti, quotidianamente attraversano le stesse, sia con automezzi che con altri mezzi di trasporto. Rosario Crocetta è già in campagna elettorale, dopo aver annunciato ieri che ha intenzione di candidarsi per succedere a se stesso nel 2017, convinto di farcela, Crocetta non è rimasto con le mani in mano. Il presidente della regione si sente già in campagna elettorale ed ha iniziato il suo giro di consultazioni riservate, ma non certo segrete. Sono 600 tra docenti e personale ATA, le persone che hanno ricevuto la revoca delle sedi ottenute grazie alla precedenza prevista dalla legge 104 e già rispediti alla sede scolastica, dove erano stati originariamente assegnati. Ma dall'inizio di aprile scatterà la cosiddetta fase 2, ossia il controllo su 30 dipendenti che hanno chiesto ed ottenuto dal 1 settembre del 2015, grazie alla legge 104, il trasferimento in provincia di Agrigento. Questi, come spiega il direttore dell'Inps di Agrigento, Gerlando Piro, saranno convocati dalla Commissione Medica per le visite e l'esito definitivo, anche se di assenza ingiustificata, verrà comunicato ufficialmente all'ufficio scolastico. Prosegue ad Agrigento la protesta dei 12 operatori ecologici licenziati che hanno deciso di farsi sentire, tornano ad occupare il Comune, il servizio della redazione di TV Agrigento. La festa è finita, la lotta riprende, la pace è simbolo della sagra del mandorle inviore tanto invocata e forse solo una questione internazionale, un valore troppo nobile ed esteso per limitare i benefici tra le mura comunali. E allora, gli effetti saranno rimasti lontano da Palazzo dei Giganti, laddove il messaggio è partito. E così i 12 operatori ecologici di Agrigento, che per mesi hanno protestato davanti al municipio, per essere rimasti esclusi dal nuovo bando, e cui i tagli economici hanno determinato una diminuzione della forza lavoro, hanno deciso di farsi nuovamente sentire e vedere. Eccole, qui sono tornati per rivendicare il posto di lavoro. A sollecitare questa mobilitazione bis, la richiesta avanzata ieri mattina da CGL Cisleguil al prefetto di Agrigento Nicola Diomede per un nuovo incontro dopo quello avuto nelle scorse settimane. Vogliamo capire, scrivono i segretari confederali e quelli di categoria delle tre organizzazioni, a che punto è la querelle tra comune e raggruppamento temporaneo di imprese, che pare si siano arenati sulla proposta di variante migliorativa, ai sensi dell'articolo 10 del capitolato speciale d'appalto, che non sembra essere stata completamente gradita dal comune, che annuncia che risponderà. Il rischio che intravediamo è che del tutto legittimamente questo clima, tuonano le sigle sindacali, possa continuare all'infinito e che quei lavoratori che sono fermi da troppi mesi possano continuare a rimanere disoccupati. Da qui la richiesta al massimo rappresentante provinciale del governo per la convocazione di un'ennesima riunione che possa servire a capire come stiano realmente le cose dove la questione si sia arenata. Nel corso dell'ultima riunione in prefettura si erano ripartiti da dove si era rimasti la scorsa estate. La chiave di volta individuata era sostanzialmente la stessa che le imprese avevano dato come possibile già nel mese di novembre, ovvero, sottolineano i CGL, Cisle e Guil, quello di utilizzare le risorse del potenziamento estivo, riarticolando complessivamente il servizio stesso. Ma allora il comune la bocciò, salvo poi rivalutarla. Scoppierà la pace? Adesso ci fermiamo la linea a Valeriggia. C'è la pubblicità. A tra poco con le altre notizie e gli altri servizi. Serena Pasqua da Studio legale associato Angelo Balsamo Farmacie Gagliano Officina Oliveri Giuseppe Vanilla Caffè Tabaccheria Montana Luciano System Color SNC Buona Pasqua da tutti noi L'isola di Pasqua è il mistero dei Moai Domenica 20, venerdì 25, giovedì 24 e sabato 26 dalle ore 17 alle 20 presso il centro commerciale Il Porto Aperti tutte le domeniche Questo programma è offerto da Ceramiche Ligata Lo stile italiano che arrenda Giorno fa sempre la differenza Domani è licata giornata in prevalenza poco nuvolosa salvo presenza di nubi sparse al mattino non sono previste piogge durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 15 gradi la minima di 11 gradi i venti saranno al mattino moderati e proverranno da ovest nord-ovest al pomeriggio tesi e proverranno da ovest mare molto mosso umidità oscillante tra i 64 e 79 per cento questo programma vi è stato presentato da dai fratello Antona grande la qualità grande la scelta di piccolo c'è soltanto il prezzo scusate se è poco Serena Pasqua da Cader di Gambino Salvatore Sivauto di Pendolino Antona SRL Linea R Motors di Vincenzo Vella Metal Tech di Antona Gioacchino Officina autorizzata Renault Bontà Calogero Autoricambi Domenico San Filippo Buona Pasqua da tutti noi Seconda parte del telegiornale l'associazione comunale i delfini di Licata applaude alla proposta di un bioparco per gli animali lanciata dal gruppo consigliare domani in rosa contro la piaga del randagismo i particolari in questo servizio La proposta lanciata all'amministrazione comunale dedicata dal gruppo consigliare domani in rosa contro la dilagante piaga del randagismo in città della costituzione di un bioparco destinato all'accoglienza e al ricovero degli animali ha ritrovato riscontro nell'associazione comunale i delfini che plaude all'idea finalmente una proposta degna di nota che merita tutta la nostra attenzione e considerazione il commento del presidente dell'associazione angelo rinascente il gruppo consigliare domani in rosa ha proposto all'amministrazione la costituzione di un bioparco una sorta di aria attrezzata destinata all'accoglienza degli animali utilizzando le specifiche caratteristiche ecoambientali di monte galluzzo Siamo di fronte ad un'idea di assoluta lungimiranza dichiara il presidente dell'associazione angelo rinascente che potrebbe qualora realizzata creare un sito di grande interesse pubblico una specie di apparato naturale dove gli animali possano liberamente trovare collocazione tale ambiente sarebbe non solo idoneo all'accoglienza dei randaggini presenti in città ma potrebbe essere un comparto di specifici studi e conoscenze anche in collaborazione con gli istituti scolastici le associazioni e gli enti preposti alla tutela e alla protezione degli animali Il presidente dell'associazione Delfini di Licata si augura che tale proposta non rimanga nei meandri della politica ma che trovi al più presto una sorta di impegno collettivo per la sua realizzazione Il progetto di un bioparco a Licata è una delle tante proposte lanciate dal gruppo consigliare Domani in Rosa l'amministrazione per risolvere la piaga del randaggismo Il progetto, come ha spiegato il consigliere Violetta Callea, vedrebbe realizzare una struttura ricettiva sanitaria ma anche un ricovero idoneo alle esigenze del territorio Creare quindi un canile e consortile coinvolgendo i paesi limitrofi che fruiscono della forestale di Monte Galluzzo Progettare un canile a rifugio e sanitario consorziato con i comuni limitrofi permetterebbe anche l'abbattimento di costi di gestione e si potrebbero ospitare centinaia di cani Sono 947 i reati penali e le violazioni amministrative accertati 1185 le persone denunciate, 229 i beni sequestrati per un valore complessivo di quasi 24 milioni di euro contestato in 118 casi Il nuovo delitto di inquinamento per 30 volte il disastro ambientale sono i dati degli ecoreati contestati in Italia dall'entrata in vigore della nuova legge che tutela l'ambiente e definisce in maniera precisa proprio i reati ambientali La regione dove sono stati accertati più ecoreati è il Lazio In Sicilia le infrazioni accertate sono 17, le denunce 87 e i sequestri 14 Proficuo incontro ad Ancona nella sede dell'Istituto di Scienze Marine tra i partner impegnati nel progetto Tartalife riduzione della mortalità della tartaruga marina nelle attività di pesca professionale finanziato dall'Unione Europea con il contributo a pari al 75% del budget totale dello strumento finanziario LIFE della Commissione Europea L'incontro è iniziato con la riunione del comitato di pilotaggio che sotto la guida dell'ente capofila ha fatto il punto delle varie azioni del progetto a tre anni dal suo avvio La valutazione delle azioni è stata positiva e anche i risultati delle azioni coordinate dal Libero Consorzio Comunale di Egrigento sono stati oggetto di apprezzamento da parte dell'inviato della Commissione Europea al quale sono stati illustrati i risultati degli incontri con le scuole siciliane aderenti al programma di educazione ambientale Scopri Tarta e le precedenti occasioni di informazione e sensibilizzazione del Tarta Day e il Tart Game Si è svolta a Naro la manifestazione primavera della legalità il servizio e le interviste a cura della redazione di TV Agrigento Si è svolta ieri incontrata a Robadao a Naro presso il bene confiscato alla mafia assegnato alla cooperativa Rosario Livatino Libera Terra la primavera della legalità giornata voluta dal Consorzio Egrigentino della Legalità e Sviluppo che ha visto la partecipazione di diverse rappresentanze di istituti scolastici dei paesi che fanno parte al Consorzio e dei loro primi cittadini L'iniziativa fortemente voluta dal Presidente del Consorzio Onorevole Maria Grazia Brandara ha rappresentato sia un momento di festa ma anche di riflessione verso i giovani Noi abbiamo voluto anziché fare una giornata istituzionale organizzare una giornata istituzionale con dei convegni che per carità hanno la loro valenza importantissima abbiamo pensato di organizzare una schiticchiata con i ragazzi e con le persone dei comuni che fanno parte del Consorzio Agrigentino per la legalità e lo sviluppo Noi siamo in attesa di un passaggio di Sua Eccellenza il Prefetto Diomede aspettiamo il Vice Presidente della Regione Siciliana Marilla Robbello ma avremo anche le due testimonianze ma in una maniera così informale stando in mezzo ai ragazzi di Sonia Alfano che ricordiamo essere il padre è stata la prima vittima riconosciuta di mafia in Sicilia che ha scelto insieme alla sua famiglia di trascorrere con noi questa sua giornata e un'altra testimonianza dell'imprenditrice antimafia Valeria Grasso i ragazzi toccheranno con mano l'importanza di agire in maniera legale che cosa significa legalità che oggi io direi superare il concetto legalità con quello ancora più importante di onestà bisogna essere onesti in qualunque azione della propria vita e quando c'è davanti un bivio non avere assolutamente dubbi da che parte stare solo così noi possiamo dare un futuro a questi giovani guardate che bellezza vedere ballare, danzare questi ragazzini giocare nella loro semplicità significa comunque davvero dare una speranza di futuro a questi ragazzi Alla giornata della primavera hanno portato il saluto delle istituzioni il Prefetto Diagrigento Nicola Diomede e il Vice Presidente della Regione Mariella Robbello Devo fare i complimenti a tutti coloro che hanno organizzato tutto questo ecco che si parla di legalità in un clima che comunque è come questa giornata di sole in un clima di sorrisi eccetera spesso si va incontro alle ricorrenze con un atteggiamento sull'atel tema in un pochettino funereo no, qua ci sono ragazzi, bambini che vivono con estrema partecipazione e sorriso nel viso, sulle labbra il tema della legalità e questo credo sia anche un messaggio bellissimo Il 21 marzo è certamente un inizio per ogni cosa e anche qui è un po' una sorta di inaugurazione di anno per questa splendida struttura che da bene in mano a mafiosi si è trasformata diventando un centro di aggregazione giovanile quindi una primavera che vuole da un lato risvegliare le coscienze ma dall'altro vedere questi giovani ragazzi prendere quasi possesso di un bene che fino a ieri seminava paura seminava in ogni caso impedimento di uno sviluppo ed oggi invece si trasforma è affidato ad una cooperativa e questa cooperativa fa diventare quello che ieri era un patrimonio in mano alla mafia fa diventare un patrimonio in mano di tutti quindi devo dire che questo vivere in questo momento particolare così con questi ragazzi è davvero straordinario E' presente alla manifestazione anche Sonia Alfano ascoltiamola nell'intervista della cura della redazione di TV Agrigento Qui a questo evento oggi anche la presenza di Sonia Alfano per testimoniare e parlare di legalità ecco quanto è importante oggi parlare di legalità anche in un territorio come questo agrigentino come quello di Naro anche alla presenza di tanti studenti Ma io direi non anche a Naro io direi soprattutto a Naro soprattutto nelle realtà come Naro che sono purtroppo distanti dai grandi centri metropolitani a volte uno può avere la sensazione che queste realtà siano distanti da certe situazioni o comunque lontane il messaggio da dare agli studenti da dare ai ragazzi è sicuramente di fondamentale importanza è un messaggio che va rinnovato ma deve essere un messaggio vero e non ipocrita perché spesso attorno a queste manifestazioni antimafia ruota talmente tanta ipocrisia che si ha difficoltà a capire se è l'antimafia che cerca di sconfiggere la mafia o è la mafia che si insinua dentro l'antimafia purtroppo ormai abbiamo dimostrazione sempre più spesso che a volte è veramente difficile intravedere e mirare comunque nei confronti di una linea divisoria questo a me francamente dispiace tanto dispiace tantissimo anche perché purtroppo lo dicevo tanti anni fa e credo che sia un messaggio altrettanto ancora attuale fino a quando il crimine sarà organizzato e l'antimafia sarà disorganizzata perché troppi protagonisti perché troppe prime donne allora noi non saremo nelle condizioni di poter fare una lotta seria visto e considerato che la politica purtroppo sembra sempre più lontano da questi temi nessun partito sembra avere a cuore quello che è la lotta alla mafia una lotta alla mafia che sembra essersi fermata in Italia nel 1996 sono veramente poche le realtà politiche che cercano in qualche maniera di mettere nella loro agenda la priorità come lotta alla mafia poi ripeto le parole possono essere tante però alle parole bisogna dare un senso e alle parole soprattutto bisogna dare seguito con i fatti oggi ci tenevo in maniera particolare a partecipare a questa iniziativa non tanto per il semplice fatto della data comunque nazionale che oggi è una data importante ma intanto perché volevo essere qui perché credo nella persona in cui tra l'altro che l'ha organizzata che appunto l'onorevole Maria Grazia Brandara perché una cosa è organizzare gli eventi per la legalità una cosa è vivere nella legalità ogni giorno per cui è importante che oggi la viviamo è importante che tutti diamo un messaggio che siamo tutti qui però il mio messaggio vorrebbe essere che questa giornata ricordiamola ogni giorno non soltanto nelle date dove oggi tutti parliamo di legalità che ne pensi di questa iniziativa di oggi? è un'iniziativa molto bella infatti penso che questa giornata ci dà sfondo a diventare gentiluomini infatti noi dobbiamo capire che qui sono state terre bonificate infatti mia zia Maria Grazia ha combattuto molto per queste terre e per farle tornare alla legalità e non alla mafia sarò sempre per la legalità e spero che questi ragazzi crescano tutti bene sulla gazzetta ufficiale è stato pubblicato il bando di concorso per titoli ed esami per l'ammissione all'ottantesimo corso presso la scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza di 545 allievi marescialli del condincente ordinario e 60 allievi marescialli del condincente di mare al concorso possono partecipare i cittadini italiani che alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non abbiano superato il giorno di compimento del ventesimo anno di età e che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado la domanda di partecipazione va compilata esclusivamente mediante la procedura informatica entro l'11 aprile 2016 con questa notizia è tutto il telegiornale termina qui grazie per la cortese attenzione l'appuntamento alle prossime edizioni arrivederci grazie a tutti